E' attesa per le prossime ore l'ordinanza del sindaco di Campobasso Battista che dispone la chiusura della scuola di Via D'Amato e il trasferimento degli alunni della primaria nell'Enrico Dovidio di Via Roma e di quelli dell'infanzia nella scuola materna di Via Crispi. In questo modo è scongiurata l'ipotesi circolata in un primo momento dei turni pomeridiani che gli alunni avrebbero dovuto fare all'interno del nuovo edificio di Sant'Antonio dei Lazari nella Colozza. Una soluzione temporanea in attesa che vengano completati i lavori alla scuola Dovidio in Via Gorizia. Tuttavia tra i genitori restano le perplessità sulla scelta del comune tant'è che incontreranno l'assessore Pietro Maio per fare il punto. Ma appare evidente che soluzioni alternative a quella prospettata dall'amministrazione comune al momento non ce ne siano, soprattutto in considerazione del fatto che mancano pochi giorni alla ripresa delle attività didattiche. Intanto vanno avanti alla cremente i lavori alla scuola di Via Sant'Antonio dei Lazari che il 12 settembre ospiterà gli alunni della primaria Nicola Scarano. Tutto intorno all'edificio un viavai di mezzi, ruspe in azione per rimuovere il terreno sul quale sarà realizzato un giardinetto, mezzi al lavoro per asfaltare il piazzale e operai sul tetto per gli ultimi interventi. E a pochi metri dal nuovo edificio alla scuola Media Colozza il personale scolastico sta completando il trasferimento dell'archivio e del materiale didattico che servirà agli alunni delle quinte classi della primaria di Via Crispi che saranno ospitate al primo piano dell'edificio. Insomma tutto procede come previsto. L'amministrazione ha trovato una sistemazione ai bambini della Scarano che lo scorso anno furono costrette ai turni pomeridiani al trasferimento fino a giugno alla Dovidio in Via Roma tra mille disagi e tante difficoltà. Il nuovo anno scolastico sembra aprirsi per loro e per le famiglie all'insegna della tranquillità.